Buongiorno, buonasera, io volevo entrare da lei, qualcuno che dice che lei e suo figlio spacciate. E lei chi è scusi? Come non c'è nessuno? E lei chi è? Sto parlando con un fantasma mi scusi. Ah sì, lei chi è? Lei è il padre o il figlio? Ah papà è a lavorare quindi lei è il figlio? E lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Lei è al quinto piano.